Il Comune di Agropoli è risultato assegnatario di due compostiere di comunità. Si tratta di compostiere di capacità singola non inferiore a 60 tonnellate, comprensive di kit accessorio costituito da pesa, biotrituratore, vaglio, sensori, misurazione e valori, maturatore statico. Saranno posizionate presso due istituti scolastici cittadini muniti del servizio mensa scolastica. Il Comune ha aderito alcuni mesi fa all'avviso pubblico della Regione Campania per la manifestazione di interesse relativa alla localizzazione di impianti di compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani. Nei giorni scorsi la Regione Campania ha comunicato agli uffici il buon fine della richiesta. A breve, afferma il Sindaco Coppola, collocheremo le due compostiere assegnateci dalla Regione Campania presso due scuole cittadine. Si tratta di un progetto sperimentale che rientra nell'ambito di un progetto scolastico teso a far comprendere come avviene l'operazione di compostaggio della frazione organica che da rifiuto può diventare una risorsa per la terra. Il compost, una volta prodotto, verrà donato a chi ne farà richiesta per utilizzo in agricoltura. Le compostiere saranno chiuse ermeticamente al fine di evitare la dispersione di cattivi odori. Sia l'opera che il servizio sono a carico della Regione Campania. Qualora la sperimentazione fornisse riscontri positivi, in futuro il compostaggio di comunità potrebbe venire previsto anche per i diversi quartieri cittadini.